Grande attesa per l'evento, la Befana arriva in treno ad Agropoli, previsto per domenica 6 gennaio. L'iniziativa, che quest'anno giunge alla sua settima edizione, è organizzata dall'Associazione Camelot di Agropoli, guidata dal presidente Giovanni Basile. Come gli scorsi anni, tantissimi bambini attenderanno l'arrivo della Befana, che giungerà in treno presso lo scalo ferroviario agropolese, dopodiché distribuirà i doni ai più piccini. L'inizio della manifestazione è prevista alle ore 9.45, mentre l'arrivo della Befana è atteso per le 10.17 e alle 10.30 è prevista invece la distribuzione dei doni. Chiunque voglia partecipare all'iniziativa e rendere felice un bambino, può donare uno o più giocattoli inutilizzati. Per il ritiro a domicilio, per ulteriori informazioni, è possibile chiamare al numero 320 56 22 14 5 o al 328 17 62 903, oppure rivolgersi direttamente all'Associazione Camelot, anche attraverso la sua pagina Facebook. La manifestazione, dedicata a tutti i bambini e non, riveste un significato particolare, poiché è all'intento di far trascorrere una giornata speciale ai più piccoli che saranno presenti per l'occasione. Grazie